E' assurdo trovare così tanti fan nella città dove sono cresciuta e spero di essere un punto di riferimento e un'ispirazione. Che cosa ti ha dato questo incontro dove sei stato a stretto contatto con un notatore come te? Beh, ci conoscevamo già, però è sempre bello scambiare opinioni e pensieri perché comunque condividiamo la stessa passione, quindi alla fine il messaggio è sempre lo stesso, cioè di inseguire i propri sogni. C'è la possibilità che un notatore normodotato possa notare al fianco di un notatore paralizzo? Beh, io penso di sì, è una cosa che in allenamento già succede e in qualche gara anche qua a Taranto è successo con Vittoria Bianco che ha notato con noi al meeting di Taranto, quindi succede, succede e ci succederà sempre di più. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Adesso io avrò i campionati italiani assoluti dove tenterò la qualifica olimpica e poi subito gli europei in Vasca Corta e poi vacanza di Natale.